Una collaborazione molto importante per la Regione Abruzzo perché è una collaborazione che mira a rendere più efficiente non solo l'attività della pubblica amministrazione e quindi i servizi al cittadino, ma che dà la possibilità all'Aquila di diventare punto di riferimento per una serie di sperimentazioni significative che il Ministro della Funzione Pubblica sta cercando di introdurre all'interno del nostro Paese e quindi della pubblica amministrazione. Noi siamo molto soddisfatti, sappiamo di poter contare su un governo determinato in questo senso, noi miglioreremo i processi amministrativi, miglioreremo i metodi di valutazione dei dirigenti e tutte le iniziative che poi il Ministero della Funzione Pubblica sta portando avanti nel nostro territorio hanno anche esse rilevanza straordinaria perché attengono quella che è l'area dell'Information Technology, attengono quelle che sono le questioni di sviluppo delle professionalità e dell'Università Aquilana per noi fondamentali. Quindi grazie ancora e speriamo che il Ministro Brunetta sia spesso in Abruzzo. Abbiamo firmato con il Presidente della Regione Abruzzo Chiodi un protocollo di intesa per continuare la collaborazione del mio Ministero con l'Aquila e con la Regione Abruzzo. Vuol dire nuove tecnologie, vuol dire assistenza con il nostro contact center ai terremotati per l'assegnazione delle case, per la loro vita quotidiana per risolvere i loro problemi, vuol dire localizzazione all'Aquila assieme all'Università dell'Abruzzo di almeno 100 imprese legate al mondo dell'ICT, Information Communication Technology, vuol dire scuola superiore della pubblica amministrazione per formare i nuovi funzionari efficienti soprattutto nel rispondere alle esigenze del terremoto. Tutto questo l'abbiamo già in corso, continueremo a farlo con la gestione commissariale del Presidente Chiodi e tutto questo per contribuire a risolvere i problemi che sono tanti degli amici dell'Aquila e dell'Abruzzo. Grazie.